Ben ritrovati ragazzi da vostro Pentitus, dal nostro canale YouTube per parlare di Telegram. Bene, come abbiamo detto già nei discorsi, Telegram è un'applicazione davvero interessante di messaggistica che a differenza di WhatsApp ha come sviluppo codice sorgente un codice open source. Quindi a differenza di WhatsApp sarà davvero difficile trovare della monetizzazione degli annunci pubblicitari che a breve magari rischieremo di trovare su WhatsApp, mentre su Telegram no, a parte le tante altre funzioni di condivisione enorme di file che possiamo utilizzare. Ma a parte questo, come abbiamo detto, quando un'applicazione è libera dà anche in modo la possibilità di sviluppare l'applicazione da altre parti, da altre terze parti e questo è accaduto anche per Telegram. Infatti di Telegram abbiamo due versioni, la versione classica e la versione X. Qual è la differenza principale? Ecco, vi ho messo lo schermo a metà, così potete già notare le principali differenze. Innanzitutto Telegram X è quello che voi vedete in basso, quindi quello che è il colore leggermente più scuro. Io preferisco sempre utilizzare temi scuri perché sono molto più rilassanti per me agli occhi, visto che utilizzo molto il telefono. Come vedete la pagina principale si suddivide in chat e chiamate, invece questo non è possibile nella versione normale di Telegram. Inoltre se andiamo al minuto in dina potete vedere in alto che c'è la mia icona del profilo piccolina, mentre qui invece abbiamo l'icona grande del mio profilo. Inoltre ci sono tante altre possibilità, ad esempio se andiamo ad impostazioni, quindi andiamo anche qui ad impostazioni, potrete vedere la differenza di personalizzazione. Innanzitutto vedete che qui abbiamo notifiche e suoni, privacy e sicurezza, dati archivi, impostazioni, chat, lingua e aiuto. Qui invece abbiamo in Telegram X notifiche, dati archivi o privacy e sicurezza, temi e chat, ma abbiamo anche interfaccia, sticker che l'hanno messo da parte in un'altra sezione, lingua. Ed è molto interessante perché possiamo andare a personalizzare davvero molto. Qui ad esempio in Telegram normale i temi che avevamo erano davvero pochini, invece guardate qui quanti temi ci sono. Ce ne sono davvero tanti e addirittura ci dà la possibilità di poter creare in noi un vero e proprio tema. Inoltre possiamo anche andare a modificare l'interfaccia, invece qui non è possibile. O meglio, è presente, ci sono alcune funzioni già attive, come ad esempio browser, in app, anteprima, chat e quant'altro, ma qui invece abbiamo una personalizzazione più avanzata. Altre funzioni che possiamo aggiungere. Ma a parte questa, un'altra differenza notevole, che se noi andiamo ad aprire ad esempio una chat, potete notare da subito la differenza che in Telegram classico abbiamo le nuvolette, mentre in Telegram X invece vedete che i messaggi vengono elencati uno dietro l'altro senza vedere la differenza cromatica di nuvolette, ma semplicemente messi in ordine. Io reputo più comodo quello utilizzato in Telegram X. Comunque anche in Telegram X può essere personalizzato, sembra andando ad interfaccia. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro ed esauriente per quanto riguarda l'analisi e il confronto di queste due versioni di Telegram, che reputo un'applicazione social davvero interessante dai tanti risvolti, ne avevo già spiegato in un video precedente. Bene, spero di esservi stati utili ragazzi e ci vediamo in un altro nostro video tutorial qui sul nostro canale di OpenTitus. Alla prossima, ciao!